San Paolo è scesa in piazza a favore di Uber, società californiana la cui app consente di trovare automobili da noleggiare con autista. Nella città che conta 12 milioni di abitanti c'è stata una mobilitazione contro il divieto delle attività di Uber deciso dalla municipalità. La misura per diventare effettiva deve essere ancora votata dal sindaco.